Cari concittadini, buongiorno e buon venerdì a tutti voi. Questa mattina c'è stato un incontro importante, istituzionale, con i rappresentanti delle forze dell'ordine di tutto il territorio, a partire dal prefetto Natalino Manno, il comandante dei carabinieri provinciale, il comandante della guardia di finanza e la questura. C'è stato questo vertice dove è stato firmato il protocollo del controllo di vicinato, un momento sicuramente significativo per la nostra comunità che va a rafforzare la sinergia di tutte le istituzioni delle forze dell'ordine che hanno il compito di controllare il territorio e garantire la sicurezza a tutti noi. Sono state analizzate le statistiche di questo territorio che vedono una contrazione dei reati in un comune oltretutto tra i più sicuri di tutto il friule occidentale. Questo ovviamente non deve farci abbassare la guardia, infatti l'impegno è sempre massimo perché, come è stato detto anche in Consiglio Comunale o nelle commissioni consigliari, anche un singolo furto è un problema, può rappresentare un'insicurezza percepita per i nostri cittadini e per tutti voi che non può essere ovviamente tollerate. Quindi l'impegno da parte delle istituzioni della forza dell'ordine è massimo e vengono poi realizzati progetti come il controllo di vicinato molto interessanti che vanno a rafforzare il presidio. Il controllo di vicinato permetterà a tutti voi, a chi vorrà, a dei volontari di far parte dei gruppi che naturalmente seguiranno un percorso di formazione e potranno essere segnalatori di situazioni di anomalia e quindi chiedere poi il tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Un sistema che non naturalmente sostituisce ai tuoi sistemi di controllo e di vigilanza ma lo aiuta, una vera e propria lente di ingrandimento della comunità che in modo maggiormente organizzato rispetto agli anni precedenti potrà permettere un'architettura di servizio per garantire queste segnalazioni e quindi il tempestivo poi intervento delle forze dell'ordine. Già altri comuni hanno aderito a questo protocollo, l'abbiamo fatto anche noi come comuni di servizio di attagliamento e dopo agosto organizzeremo degli incontri pubblici e daremo massima visibilità a questo progetto per permettere a tutti voi di poter partecipare, poter far parte di un gruppo che semplicemente non fa ronde, non va in giro a controllare o a sostituirsi alle forze dell'ordine ma semplicemente ha dei sistemi e delle procedure di segnalazione per le nostre forze dell'ordine appunto per aiutarle. Oltre a questo abbiamo annunciato l'arrivo di due nuovi vigili, quindi un rafforzamento fino a 10 unità della nostra polizia locale, arriveremo fino alla fine dell'anno, verso la fine dell'anno supereremo le 100 unità di videosorveglianza con una crescita notevolissima negli ultimi anni, ricordo che nel 2021 eravamo fermi a 70 punti di videosorveglianza e siamo arrivati a oltre 100 anche sostituendo i vecchi sistemi, quindi una crescita sia quantitativa che qualitativa e poi abbiamo anche salutato il nuovo vigile che ha preso servizio proprio ieri, Gaspare Curseri, al quale ovviamente da parte di tutti noi auguriamo buon lavoro all'interno di una grande squadra, la squadra della nostra polizia locale, coordinata dalla nostra comandante Deborah Martone. In piazza potete trovare una novità, una novità che rappresenta un'innovazione per tutti noi, piccola ma sempre un segnale di crescita e di miglioramento del nostro arredo urbano, una panchina con un sistema fotovoltaico proprio all'ingresso di parco rota dalla parte della piazza, una panchina dove potete sedervi ma potete anche ricaricare il vostro tablet o il vostro smartphone, proprio perché è un sistema di accumulo di energia che poi può essere utilizzato con queste finalità. Un sistema che abbiamo voluto introdurre a San Vito, arriveranno anche altri elementi legati all'arredo urbano che fanno parte del progetto complessivo dei distretti del commercio. Per quanto riguarda il primo capitolo del progetto, quindi l'arredamento urbano, il miglioramento dell'ambiente proprio a sostegno della vitalità dei paesi ma in particolare a sostegno delle nostre attività commerciali, è arrivata la panchina smart come vi ho detto, appunto con la ricarica tecnologica ma arriveranno anche a breve otto panchine eleganti, quattro fioriere e otto cestini per la raccolta differenziata con posa cenere, questo per quanto riguarda l'arredamento urbano del nostro centro storico. In più partiranno i lavori di piazzetta, pescheria e la riqualificazione di via Marconi come abbiamo già annunciato e nei prossimi mesi partirà, crediamo a settembre, i lavori di raccordo della pista ciclabile di via Stazione, via Patriarcato, mentre i lavori legati alla riqualificazione di via Tomadino e alla realizzazione della pista ciclabile di via Tomadino sono già come sapete stati realizzati, contributi per 14 mila euro per quanto riguarda l'arredamento urbano e molti altri per quanto riguarda l'infrastrutturazione così da permettere di migliorare l'assetto viabilistico e in generale la bellezza e l'attrattività della nostra San Vito proprio in funzione del sostegno al commercio locale. Oltre a questo verranno installate due stazioni per bici elettriche con la stazione ovviamente di sosta, i gonfiatori e le ricariche ovviamente per questo tipo di mezzi. Siamo molto soddisfatti, siamo tra i distretti che hanno corso di più, che hanno realizzato già molto e contiamo di chiudere il progetto, il primo al primo progetto dei distretti del commercio con gli altri otto comuni in tempi celeri proprio per cominciare a programmare i prossimi investimenti per i quali attendiamo ovviamente i finanziamenti con i canali previsti dall'assessorato regionale dall'assessore dell'assessorato che fa capo all'assessore Bini che ha più volte ribadito il fatto che questi progetti verranno riproposti poi negli anni. Ci troviamo in uno dei posti più belli, più caratteristici della nostra San Vito, quest'oasi, quest'oasi di bellezza, di recupero ovviamente storico architettonico e sociale perché qua abbiamo una realtà straordinaria che è la Volpe sotto i Gelsi e la cooperativa il piccolo principe che con i suoi volontari e le tante persone che vengono accolte, impegnate, impiegate nelle tante attività vi è una fattoria vera e propria, un'attività legata all'agricoltura sociale e alle tante attività compresi anche i nostri centri estivi, centri estivi che vengono organizzati durante il periodo estivo che permettono a questo luogo di essere veramente magico per tutti noi. Proprio per questo motivo vedete alle mie spalle oltre al sito anche questi mezzi e queste segnalazioni proprio perché in questi giorni è partito il cantiere, il cantiere che tanto aspettavamo finanziato con i fondi del progetto Paese di Rustica Mur che prevederanno un investimento, un intervento per 160.000 euro di riqualificazione di questo luogo, in particolare le aree esterne, il parcheggio, il cortile esterno con nuove strutture che permetteranno una maggiore funzionalità dell'area a beneficio di tanti visitatori ovviamente ma soprattutto di tutte le ragazze e ragazze, tutte le persone impiegate all'interno di quest'area, tutti i volontari e tutti gli operatori del piccolo principe proprio per rendere questo luogo ancora più bello, ancora più funzionale, ancora più attrattivo e ovviamente più ancora forte per continuare a portare avanti queste iniziative sicuramente di valorizzazione del territorio ma in particolare di inclusione, di inclusione sociale, di inserimento anche di persone ovviamente con fragilità o disabilità nel mondo del lavoro o comunque nell'attività generale di carattere sociale. Vogliamo ringraziare in particolare i nostri uffici tecnici, l'architetto Molinaro e il suo staff per aver avviato questo progetto di riqualificazione, averlo fatto nel migliore modo possibile anche ai fini della contribuzione come vi dicevo e un ringraziamento particolare ovviamente a tutti i collaboratori e tutti gli operatori del piccolo principe che da molti anni investono il loro tempo, le loro competenze è proprio a beneficio di questo importantissimo servizio. Gli eventi di questo fine settimana. Questa sera alle ore 21 a tutto Sipario, la compagnia dei Salvadeghi, ore 21 in piazzetta Statola, una commedia d'arte con la rielaborazione drammaturgica dai Rusteghi di Carlo Goldoni con l'assemblea tetrale maranese di Marano Lagunari. I beglietti a 5 euro acquistabili al nostro punto Iato direttamente in serata. Sempre stasera alle ore 21 il concerto grosso al Teatro Rigoni, il tradizionale concerto grosso di Ilma Orchesta diretta da Federico Sardelli con solisti di fama internazionale. L'ingresso libero su prenotazione al sito ilmaonline.eu. Sabato 3 agosto domani la finale del premio Ilma Estate 2024. Allora 21 al Teatro Rigoni. L'emozionante concerto in cui migliori scritte Ilma Estate 2024 gareggiano per vincere l'ambito premio. L'ingresso su prenotazione appunto al sito ilmaonline.eu. Proprio in questi giorni abbiamo avuto questi straordinari musicisti nei nostri luoghi più belli della cultura che hanno provato, hanno partecipato alle varie masterclass in un progetto, in un'edizione che appunto si concluderà sabato domani, sabato 3 agosto al nostro Teatro Rigoni. Non mancate le mostre in questo fine settimana, Vincenzo della Bellarte, Genius, Locci della Chiesa di San Lorenzo, sabato e domenica alle 10.30 alle 12.30 e alle 15.30 alle 19.00, Paolo Iacchetti, numerazioni occulte all'antico ospedale dei battuti, sabato e domenica 10.30 alle 12.30, 15.30 alle 19.00, ultimo weekend quindi per chi non ha ancora visitato questa mostra, andate a visitarla. Un forte consiglio sincero perché merita veramente e poi la mostra che da poco è stata inaugurata di Giampiero Deotto, Varanasi, la città sacra dell'India, Castello, il nostro Castello di San Vito, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00. Ricordo la settimana prossima, lunedì 5 agosto il Lago dei Cigni, un balletto classico con la compagnia Al Mantaz, biglietti su ticketone.it oppure al nostro .iat. Allora è 21 in Piazza del Popolo, per chi non avesse ancora acquistato i biglietti acquistateli per questo bellissimo evento che fa parte della programmazione di altri 50 eventi di quest'estate di San Vito a cielo aperto. E' sempre all'interno di questa ampia programmazione, un altro bellissimo evento di grande cultura, di grande bellezza, l'operetta, l'operetta torna in piazza con la vedova Allegra il martedì 6 agosto, all'ora 21 in Piazza del Popolo. I biglietti li trovate su ticketone o presso il nostro .iat.it, non agosto, una grande settimana a San Vito, per chi non è andato via in vacanza, Filippo Graziani canta Papà Ivan per gli Amici Tour. Un altro bellissimo evento col figlio di Ivan Graziani che canta le canzoni di suo papà con la stessa voce, identica, con la stessa sensibilità, la stessa straordinaria capacità artistica. Allora 21 in Piazza del Popolo, sempre biglietti su ticketone.it oppure al nostro .iat. E giovedì 8 agosto, per portare avanti questa straordinaria settimana a San Vitesse, le notti del vino, musica e degustazioni con cantine locali, dalle 19 alle 23 in Piazza del Popolo. La nostra piazza si riempirà di spazi e luoghi dedicati alle degustazioni e alla conoscenza dei vini del nostro territorio, proprio per celebrare San Vito e Tagliamento, città del vino. Grazie e buon fine settimana a tutti.